Sono Carmendelia Udil-Rinmontero, ho 27 anni, vengo da Cádiz, Spagna, sul sud della Spagna, Andalusia, e sono una giocatrizia del kick-off a Milano. Mi diverto sempre, ogni volta che prendo una palla dimentico tutto, passa tutto, sì. Do l'allenamento? È andato bene, è andato bene. Ti sei divertita? Sì. Sei andata forte? No. Sì. In Spagna sempre lo faccio, con mio fratello. È Mancino, uguale di me, e è molto bravo. Sane squadra, è il numero tre anche. Per lui è il numero tre. Io sono arrivata al calcio femminile, quando avevo 14 anni, e tre mesi dopo è nato lui. È nato il 3, del 3 alle 3 di notte del 2004. E quindi l'ha dato già nascendo il significato al mio numero di maglietta che l'avevo preso cinque mesi prima, da che lui nacesse. Qua in Italia, io sono qui da sei anni, e ho visto una crescita allucinante qui, da sei anni, finora è cresciuto tantissimo sia a livello tattico che a livello di campionato, no? In generale. Quello che manca forse sono un po' le strutture, perché in Spagna quasi tutte sono di parquet, un buon parquet, qui sono quasi tutte di gomma, gomma già consumata, e quindi fanno male alle gambe e tutto. Ciao, stiamo partita, e stiamo vincendo, stiamo vincendo. Stanno bene, stanno bene 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, 9 a 2, 9 a 2, 9 a 2, 9 a 2, chiara sbaglia signori? Brava per non so! Che sei? Quasi, quasi. Non mi pare so male, come si dice qualche ionico. Ora parliamo in spagnolo, scusate, volevo scusare di capire che in panchina ci sono le più brave, due brasiliane, una portoghese, una spagnola e una italiana, poi fate voglia. C'è il mister, 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 c'è il mister. Mister Russo, mister Russo chi è? Mister Russo chi è? Mister Russo è il meglio che c'è. Salutiamo ragazzi, salutiamo. Ciao, 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 ciao. Il mio ricordo più bello che mi ha regalato il Fuzzac, finora è stato l'unico titolo che ho, che è la Supercoppa Italiana. L'ho vinto nella Ternana due anni fa, stavamo pareggiando 1-1 e ho segnato io il 2-1 e poi ho fatto quasi l'assist del 3-1. Mi hanno dato l'MVP alla migliore giocatrice della partita e penso che è stata una soddisfazione unica, è il mio primo titolo della mia vita anche e per me è il migliore ricordo che ciò, finora di sì.